Elezioni comunali di Palermo, 6-7 maggio 2012. Ecco come si vota. La scheda relativa all'elezione del sindaco e del consigliere comunale è di colore grigio. La scheda grigia quindi consente di votare distintamente il sindaco e o il consigliere comunale come se fossero due schede in una. Nella parte sinistra della scheda, infatti, è presente l'elenco prestampato di tutti i nomi e cognomi dei rispettivi candidati sindaco. Per votare il sindaco sarà dunque necessario barrare il nome e il cognome del candidato da voi scelto. La parte destra della scheda presenta, per ciascun candidato sindaco, un elenco di liste che appoggia nel rispettivo candidato. Per esprimere dunque la vostra preferenza di lista sarà necessario barrare il simbolo scelto. Per votare il consigliere comunale sarà necessario scrivere a stampatello il cognome del candidato da voi scelto nella riga corrispondente alla lista di appartenenza. In tal modo è come se si votasse per due distinte elezioni, l'elezione del sindaco e l'elezione del consigliere comunale. Esprimere la preferenza a una lista e al rispettivo consigliere non comporta automaticamente il voto a sindaco. Se dunque volete votare anche per il sindaco dovrete comunque barrare il suo nome prestampato. Quindi per votare sia il sindaco che il consigliere comunale occorrerà barrare il nome prestampato del sindaco, barrare il simbolo della lista scelta e scrivere accanto il cognome del candidato consigliere scelto.